salve a tutti il mese prossimo assieme ad una mia collega abbiamo organizzato una mostra d'arte per esporre delle opere mie e sue all'interno di questa mostra d'arte abbiamo deciso di realizzare ed esporre un dipinto realizzato a quattro mani e quello che potete vedere qui in questo momento sul cavalletto è proprio un suo dipinto io prenderò con molta probabilità la porzione di destra e per mezzo di una linea trasversale dividerò il dipinto in due e realizzerò la mia porzione come al solito con un genere pop art utilizzerò esclusivamente dei colori primari con l'uso di bianco e nero e niente questa questa opera rientrerà all'interno di questa manifestazione in più all'interno della loquandina principale io vi auguro la buona visione del filmato che seguirà che vi farà vedere come ho realizzato quest'opera e se il filmato vi dovesse piacere come al solito iscrivetevi al mio canale lasciate un like e o iscrivetevi ai miei canali social buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti